Buongiorno, sono Ivan Censi, esploratore del perturbante e collezionista di curiosità. In questo video voglio parlarvi di due libri della collana Mirabilia, Paris Mirabilia e London Mirabilia, editi da Logos con le foto di Carlo Vannini. La parola latina Mirabilia, da cui deriva l'italiano meraviglia, ha conosciuto un utilizzo duplice. Da una parte erano chiamati così gli antesignani medievali delle moderne guide turistiche. In Mirabilia erano appunto degli incunaboli o dei libretti che presentavano al pellegrino, al viaggiatore, le bellezze della città che si apprestava a visitare. Dall'altra, nelle Wunderkammer del V, VI e Settecento, il termine veniva utilizzato per indicare tutti quegli oggetti straordinari creati dalla natura, i naturalia, o dall'uomo, artificialia, che suscitavano stupore. Una sorta di macro-categoria che includeva tutto ciò che era davvero mirabile, cioè degno di essere ammirato. Ecco, la collana Mirabilia parte da questo doppio significato di guida e di Wunderkammer. Ogni città è una sorta di camera delle meraviglie. Ogni città possiede un suo volto nascosto e segreti che attendono di essere scoperti. Itinerari inusuali, strane botteghe che paiono uscite da un racconto fantastico, musei oscuri e inquietanti, eccentriche collezioni. Le guide della collana Mirabilia, che finora sono due appunto, una dedicata a Parigi e una a Londra, sono il perfetto compagno di viaggio per gli appassionati dell'insolito e per i cercatori dell'incanto. Paris Mirabilia suggerisce di graffiare la superficie delle risapute cartoline di Parigi attraverso quindici esperienze, ognuna a suo modo affascinante, quindici inviti all'incanto per scoprire i segreti della Villa Lumière. Tra le pagine del libro ammirerete, per esempio, un'enorme collezione di grammofoni e giradischi d'epoca, varcherete la soglia di un museo in cui sono esposti i vitelli a due teste e corpi scorticati, passeggerete fra le lapidi di un cimitero molto commovente, uno dei primi cimiteri degli animali, riscoprirete l'antico e malizioso erotismo della Belle Epoque, vi farete ammaliare da maghi e automi, da strane botteghe stracolme di animali imbalsamati e da meravigliose giostre dell'Ottocento. Tutti tesori sommersi in attesa di essere recuperati dagli odierni palombari della meraviglia. Parigi ostenta sempre un principio di eleganza, di consapevolezza, che le arriva dalla storia francese, dalla natura stessa dei parigini. Nonostante sia ormai una metropoli a tutti gli effetti, continua a mantenere un'anima sensuale, che si riflette anche nelle meraviglie che propongo in Paris Mirabilia. Di contro, con il secondo volume, io e Carlo Vannini ci siamo avventurati nel cuore di Londra. Londra è molto differente da Parigi, è un folle frullato di culture e tendenze in cui per ogni ingrediente riesce a mantenere la propria individualità. In questa babele molto colorita, il moderno ha spesso nascosto o inglobato l'antico, il quale però resiste, continua a resistere quasi per miracolo. Un esempio lampante è la gigantesca scheggia di vetro, il celebre Shard di Renzo Piano, che sorge sulla stessa via della vecchia chiesa di St. Thomas. Nel solaio del campanile di questa chiesa è ospitato l'unico teatro chirurgico ottocentesco rimasto in Europa, nonché un piccolo e meraviglioso museo sui rimedi, gli strumenti ostetrici e chirurgici, le farmacopee ottocentesche. Allo stesso modo, capita che dietro alle anonime facciate di abitazioni a schiera, quelle in classico stile working class, si nascondano magioni vittoriane da favola, oppure degli strani musei scientifici sconosciuti alla maggior parte dei passanti. Le meraviglie di Londra sono, insomma, un po' più iniziatiche, un po' più occulte. Il turista ci passa davanti, diretto verso altre mete più popolari, e non sospetta nulla, a meno che non abbia con sé, appunto, una guida come London Mirabilia. La moltitudine di facce che ha la capitale inglese si riflette anche nelle location che ho scelto di proporvi in London Mirabilia, che sono tutte estremamente eterogenee e differenti tra di loro. Si spazia da un'incredibile collezione di ventagli a un museo dei giocattoli antichi, a un museo di aeronautica bellica, dai rampicanti del cimitero di Ebney Park alle teche vittoriane del museo di zoologia, in cui è conservato anche un incredibile barattolo di talpe sotto formalina, un barattolo che ha il proprio profilo Twitter diventato famosissimo. La mia speranza è che questi due volumi diventino, come ho detto, dei compagni di viaggio per chi non si accontenta delle mete classiche mai disposto ad avventurarsi nelle pieghe più profonde della città, per comprenderne anche gli aspetti più rari e singolari. Sono guide pensate non soltanto come breviari per le anime curiose, ma anche, grazie soprattutto alle straordinarie fotografie di Carlo Vannini, come dei piccoli gioiellini editoriali che faranno la felicità, lo spero, del bibliofilo, e anche di chi, non potendo viaggiare, le sfoglierà comodamente, restando sul divano di casa propria. Grazie a tutti! Grazie a tutti.